quando vuole presidente italiani benvenuti volevo dirvi una cosa importante prima di cominciare che mi sono mancati tantissimo bella raga io sono Oz e dietro la telecamera c'è Valex come sempre oggi vi mostrerò la tecnica tie-dye Spero di pronunciarlo bene Comunque chi se ne frega se volete Tutto quello che ci serve Candeggina, dei capi d'abbigliamento In questo caso io ho preso Un paio di t-shirt Un cappellino E un paio di nalze Raga se volete dei video professionali Andate da Federico Barengo A me non me ne frega un cazzo io sono così Un paio di t-shirt Un cappello Bellissimo Non è successo niente Va bene Wow raga Allora questa qui Innanzitutto è venuta una bomba Cioè è già la mia preferita Comunque raga se vi è piaciuto il video Lasciate un like Così capisco che devo pubblicare questo tipo di contenuti E se condividete il mio video Niente È super apprezzatissimo Un bacio a Zidyan E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video